Dannazione anch'io voglio qualche altro dinosauro, magari Oh no, non è questo, non è questo Oh, eh, spiù, cosa sta facendo? Non lo so No, mi sta che, mi sta per puntare Mi sta puntando, ah, ti ha spuntato Ti ha spuntato, cos'è un lama? Oh guys, salve tolte, sono le spigioche, ben tornati Il nuovo episodio dei Lucky Block Giganti In compagnia di Luca e Crypto Ciao, salve E oggi siamo davanti I Lucky Block Giganti Dinosauri Sì, 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 Crypto, non avere gli spasmi Non ti fa nulla Non ti fa nulla Li vedi, non ti vede Problematici, sono quelli che trovate all'interno di quei blocchi, capisci? Quello è soltanto fermo lì, ma gli altri si muoveranno e proveranno a farti del male Cercate di ucciderti, assolutamente attacca Luca, assolutamente E mi raccomando, non dovete raggiungere 20 morti, altrimenti verrete eliminati E soltanto il sopravviso di questa sfida verrà dichiarato vincitore Quindi, diamo inizio a questa nuova sfida 3, 2, 1 E diamo inizio a questa nuova sfida dei Lucky Block Giganti Buona fortuna Io non voglio essere morso però, eh Sicuramente lo sarai Luca, cosa pensi? Uh, io ho trovato delle... Oh, 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 ok Io ho trovato... Se è buono o cattivo tu? No, che è buono per fortuna Ho trovato un altro buono Ben accetti Uh, un po' di attrezzi primitivi Ottimo, meglio che niente Meglio che... Oh, sì, assolutamente Sì, altro che attrezzi primitivi Un Lucky Ball Come va da voi? Oddio Anch'io ho trovato un dinosauro cripto Anch'io ho trovato un quale Vediamo se riesco a prendere il tuo ESP Cosa vuol dire? Hai trovato un fucile da cercare? Stai scherzando? Ma porca miseria Ma tu hai vissuto le armi? Non ci credo Lo voglio trovare anch'io Maledetto Ah, è diventato uno zoo Oh, no, ci credo Ci è creato una voragine Mi sa che la mia prima morte È molto, molto vicina Ok Questi sono lupi amichevoli, vero? Oh, sono i miei amici Perfetto, perfetto Mi difenderanno Mi difenderanno Sta dormendo il tuo amico? Cosa? Oddio Sì che sta dormendo No È svenuto Per il troppo caldo Ah, bene, cripto Adesso ho un tricerato Pottannazione Anch'io voglio qualche altro dinosauro Magari Oh, no, no, questo No, 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 no No, 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 no No, no, no Perché il T-Rex? Sperdi una mano Perché il T-Rex? Buttano giù dal ponte Ma dai, non è possibile Primo che apro, quasi Mi capita il T-Rex Attento, attento, cripto Che è pericoloso questo coso Oh, si è bloccato, forse Mamma mia, forse col ponte Lo facciamo Oh No, si avvicina troppo Cosa vuoi fare, Luca? Oh, no, no, no Fai il bravo Mi stai sparando? Fai il bravo, tu Oh, no Ho lanciato un secchio di lava Mi sa che No, mi sono griffato il ponte da solo Mercati questo Dannazione Non riesco a beccarlo Uh, no, cripto Quelle sono pozioni infortunate Dannazione Voglio provare questi invece Vediamo Aspetta Uh, sì Perfetto Tieni No Porca miseria Perché l'hai fatto? Espi, cosa ti ha fatto, cripto? Mi ha buttato giù Avevo appena sconfitto il T-Rex Cioè, tipo così? Ah, ma, ma Ma sei stato tu? Ups Io ne ho ancora un paio di queste pozioni Ma, fai il bravo che anch'io le ho E non ho paura di usarle Oddio Eh, vabbè, ma non è possibile Oh Cosa non ho trovato Anch'io a quanto pare ora Un bel fucile da cecchino Dovete Dovete stare parecchio attenti Sì, sì, sì Perché si inizia a trovare Cose belle Ve ne farò passare di Uh, di ogni tipo Cos'è stata quell'esplosione? Niente, niente Nessun tipo di esplosione Non ti preoccupare Oh, oh Oh, oh Porca miseria Uh, ok Ora qualcosa Qualcosa è esploso Però per fortuna È un erbito Cosa fai qui? Cosa fai? Le carote d'oro Mi volevo Sì Non grifarmi il blocco Guarda che se mi rovini il blocco Mi vengono Ti sto Ah, ci stavendo tutte le cose Mi piacciono Non è male questo castello di slime Oh, no Quella armatura di diamante Ah, ah Porca miseria Non ci credo Sono spiattato io No, c'è l'inventario pieno Oh, no Ti preoccupare Che presto Uh, ce l'avrei vuoto Oh, quasi No, no, no Oh, sei scappato È l'occasione perfetta per Vediamo, vediamo, vediamo 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 Vedermi l'armatura Eccola qui Oh, sì, sì, sì E ora questa È mia Fai il bravo Fai il bravo Che sono Cos'hai fatto? Ma dove sei, Luca? Non ci credo Sei volato giù? Mi spiace Sono cose che succedono Mi spiace ogni tanto La vita è ingiusta Ah, hai Porca miseria Guarda che te la faccio Per fortuna Non vente da lanciarti No, 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 no No, no, no Forse sì Ah, freccia No, vieni qua Vieni qua Freccia No Cos'è stato? Ok, questa forse ha fatto male Una mette ora Dentro un blocco Come se dentro un blocco Ti ha salvato la vita Dall'azione Eh, ne ha sponato un altro Sono due precisauri gemelli Aspetta, guarda cosa qui Guarda Oddio Ma cosa? No, cretta Cosa è successo Luca Fuori incrociato Cripto Stavo mirandato Il giuro Luca tu hai colpito Cripto Stai tirando a me Maledetto Vendetta Vendetta Ti prendo Ti ho preso Sì Porca miseria Il primo colpo Ma ci stai provando Di nuovo Luca Stai io Guarda che ti prendo Un'altra volta Aspetta Spiegare Guarda Prendilo No, no, no Prendilo Confusione Cosa state facendo Aspetta Lo provo a prendere No L'ho mancato Schivata No, no Sta arrivando da te Preso È inutile Che saltelli Luca Ti ringrazio Crypto Senza di te Non avrei potuto farcela La figura Perché Maledetto Dove siete Espi andiamo a prenderlo Troppe poche morti Guardalo Aspetta Prendiamo Ho trovato Questa una pistolina Nuova Voglio provarla Si sta nascondendo Ci sono le scale Ci sono le scale Pum Aia Espi andiamo Su a prenderci tutto Guarda che sta Già arrivando Mi sa Espi No, via, via, via Espi Vini, su Vini, su Vini Su Qualche Arma A distanza Avvicinata Uuu Che male Cosa Già Questa L'ha sentito Ok, ora saliamo su Voglio vedere C'è qualcosa di interessante Sono un po' di fortunato Sfortunato Sono fortunate Mamma Te ne scappiamo Il cavallo Così all'improvviso E attento Che crypto Potrebbe tornare Un momento All'altro Sì, sì, sì Ci sono una per te C'è una anche per te Sai che c'è per voi Ah, no, no Che succede Che succede Vieni qua Ora ti prendo Ora ti prendo Oh, creeper caricato Fallo esplodere Fallo Oh no Il creeper è ancora vivo È morto con il È morto con il Con il fulmine Abbiamo seccato malissimo E Luca L'abbiamo ancora utilizzato L'arma segreta Che abbiamo trovato In quel l'acquilot Voglio provarla Chissà come funziona Oh no Tornate dietro Attento Attento Giù 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 Cosa Ho preso Hai preso Ma non ci credo Attacco combinato Perfetto Vabbè, però adesso basta Con l'alleanza Luca Perché Come puoi vedere Adesso hai tu Poche morti Esatto Poche morti Quindi Via 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 Da nessuna parte Crypto Crypto Da me la mano Ah, ah Ah Fatti bravi Fatti bravi Sta scappando giù Eccolo lì Aspetta Fai il bravo Fai il bravo No È andato Crypto È ancora vivo È ancora vivo Guardate Con le munizioni L'arco L'arco Addirittura Meglio Per noi Per noi Per noi Per noi Oddio Quando finiscono Guarda che Ti hai nuvato Che vanno Di frecce No Crypto No Che vanno Di Luca No Ok Crypto Lo sciottato Hai toccato Luca Tocco Tocco Ok 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 Si va di armi Ricarica Che armi Che c'è Ragno maledetto Crypto Non provarci Dove sei Dove sei Dove ha finito Luca Me lo sono perso Sono anche avvelenato Fa male Fa male Non è giusto Così Non è giusto Porca Ok Ho finito L'abolizione Anch'io Mi sa Fai il bravo Guarda che va a finire male Per te Luca Ok Qualcuno È la ragnatene Oh Qualcuno è morto Non so Cosa hai in mano Però Non mi sembra Cosa vuol dire Ah Stai fermo Crypto Non usarlo Non è il momento Non è il momento No No Non incoraggiarlo Non incoraggiarlo Ok Tu posso Darmi Io posso L'arco Ah 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 Porca miseria Porca miseria No 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 Non è valido Trova potenza di fuoco Luca Possiamo cogliere la sprofista Andiamo al suo spawn Ah Ah Sei sicuro Boom Ah No 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 Ah 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 Fate Fate i bravi All'alto Dall'altro Bam Oh È arrivato giù Ma come Cripto è andato Ora manca soltanto Luca Mantiene il sangue freddo Eccoti qua Oh L'ho sto cadendo Porca Ah Così lanciatolo con la granata Lascia stare i miei prontosauri Vieni qua Ma uccido la tua isola C'è Non il mio Laki Quanto male Ah E non grifo Fai bra Fai bra Così Così E vabbè ma cripto si ammazza da solo Non è colpa mia Carica 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 Ricordi 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 Ah Oddio Oddio Ha funzionato No non fare Non fare Capitano sempre cose brutte Sì Sì Capitano sempre cose brutte Oddio Oddio Cripto perché devi sempre trovare questi laki block mortali Adesso scommetto che so Invece no Quanta roba Ah Creeper Esploso Gio Bob Espi attento dietro Attento dietro Oddio Porca Grazie Grazie Mi conviene correre È correre come Porca Ho mezzo cuore Ho mezzo cuore Non so nemmeno io Vieni qua Vieni qua Vieni qua Fallo fuori Hai un fucile a pompa quello Tiralo giù Tiralo giù Vabbè lo faccio secco io Non ti preoccupare No è pericoloso Ma cosa è pericoloso Uh è andato Espi ci sono pezzettini di dinosauri Lascia stare i pezzettini di dinosauri Non siamo mica qui per costruire un museo Ah E nemmeno per morire all'improvviso senza ragione Ma come sei Come hai fatto Espi Espi vieni giù Espi vieni giù Cosa c'è C'è un problema Cosa bruttissimissimo Dove l'hai visto Lì sotto lo vedi Dove lì sotto Ah Questo Questo Oddio Cos'è questa roba È un velociraptor Oh porca miseria No è un dilophosauro È un dilophosauro E non gli vedo la testa Dannazione Però devi far secca la strega Perché continua a darci fastidio Ok Luca Ti sto controllo di Lofosauro Che non si svegli E non ci dia fastidio E ne continuiamo a spaccare blocchi Che me Ok Lofosauro è sparito Nessun problema Luca ne hai trovato un altro Oddio Si è vegliato È il cucino Ma è aggressivo Sputando Sta sputando Vabbè cosa facciamo Cosa facciamo Uso il lucky bow Lo seguo Lo so 3 2 1 Boom Ma riesco a prendersi L'ho avvelenato Hai visto che roba Oh oh Eh più cosa sta facendo Non lo so No mi sta che sta per puntare Mi sta puntando Ti è spuntato Ti è spuntato Cos'è un lama Ah ah perché mi stai sparato Chi è che mi sta Luca mi è sparato Dannazione Dove sei finito Dopo sei finito Mi voglio venire Vieni qua Maledetto traditore Ora ti concio io Mamma mia Ah chi è che mi spara Crypto Crypto aiuto Ma perché vi alleate sempre contro di me Dannazione Dannazione Esaltamente vero Doi Doi Beccati questo Beccati Oh E Luca Finalmente ha levato il disturbo Ma crypto Crypto dove sei Espi Hai visto Che cosa Ti vuole Mi puoi contare Guarda ho iniziato un nuovo lavoro Che cosa stai dicendo Due dini Tre dini Oh no ho bevuto ancora Non ci credo Prima dell'anno Non si beve Sono un pc Mai No Quattro dini Sei dini Quindi Li vedi Sui due Ma poi E' un nuovo lavoro Che lavoro è Crypto Basta Il contadino Oddio Santo Veramente Oddio Capi Chi da poi Tutte le armi Ma cosa Ha eliminato Sia me che lui Complimenti Grazie Fuoco incrociato Indovinate dove sono Ma no Ma come Sei già arrivato Qui Prima di me Eh sì Adesso te la faccio pagare Ma mi raccomare Cos'era quell'esplosione Ho sventato il t-rex Fai bravo Luca Ah 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 C'è chi mi ha dato fuoco Qualcuno ci sta Qualcuno ci sta bersagliando Cripto Eccolo lì Dal basso Adesso glielo faccio pagare Ah perché stipita Oddio Scusa Cosa scusa Abbiamo intrappolato Le ragatele Scusami Ah Adesso te la faccio pagare Lo stesso Luca Che si sta bruciando Porca miseria Tutto da un'altra È giusto Lava Lava No creeper Qualcuno è schiattato Onta Mi spiace tanto Luca Ora possiamo allearci Un attimo E spaccare questi lacryblock Sulla schiena Del tirannosauro Così almeno vediamo Cos'interessa Eh ma non è possibile Stiamo cantando Gattemi una mano Non è giusto Il primo che spacco Mi condanna morte Sono qui Nella gabbia di ossidiana Ci sei? Ah sì ci sono Per un pelo Aspetta Tu a posto? Tutta cosa è quella cosa Cosa è quella roba Che schifo Ha un corpo Un fucile Che brutto Mi sembra un fucile Quella cosa E penso che sia Non lo so Un tiro un sauro Un uccello Qualcosa di simile È un gufo Ma cosa è un gufo? Ma sei cieco? Crypto ha problemi di vista Non è un gufo? È tipo un strano dinosauro Luca Luca il pollo Il pollo Ho detto che sono allergico Il pollo a rosso Per cortesia Luca No Oh no Qualcuno vuole la guerra qui? Oh portami E vabbè Vabbè che volo E ora E ora anche tu E ora anche tu No 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 Sono finito giù Anch'io Sì Io lo faccio Per tirarvi su un po' Il morale No Dai Luca vieni qua Non ti preoccupare Crypto No Cioè sono un pochino squalli E sono un pochino bruttini A volte Però sappiamo che lo fai Per tirare sul morale Se non vi piacciono allora Cioè inizio con le schiacciate Con le schiacciate O no Anche questa è una delle sue battute Prendilo Luca Prendilo Ora lo si Non lo si Aia 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 Bisogna bruciare la strega Non fermi Brucia la strega Ti stai bruciando da solo Non è colpa mia Via 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 Fai bra Fai bra Fai bra Fai bra Ti dice Chi non altro Guarda Guarda Nemmeno guardo Nell'obiettivo Non scope Boom Cheater Cheater Non è vero Non è vero Ragazzi ma ho trovato una cosa Super bella nell'albero Dove Chi usavamo per salire prima Davvero Ah Arrivo subito Crypto Allora Aspetta 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 Dove Ho trovato uno nuovo Non è che tutti i cavalli Sono tuoi Oh salve Lì dentro Ma lì ci siamo già stati Lì dentro Una cosa bellissima Venite non è che una trappola no perché prima vorrei fare una piccola prova vorrei fare una piccola prova eccola vivo prendilo come hai fatto a sopravvivere non lo so aia o giustizia sottopata si voleva dire volevassia ma questo è un punto perfetto espi così esplodavamo noi e non lui ma è un vero criminale della sua ventesima morte adesso parte il duello finale lo facciamo lo facciamo sul t-rex e vedremo che il vincitore di queste nuove lucky block gigante quello che ne rimane l'abbiamo un po e vabbè insomma ancora brodo ormai colorava ovunque ok siamo pronti per questo duello finale duello finale assolutamente hai scelto la tua arma io penso di andare di cecchino oppure di di pistoli aspetta che la ricarica sd con mai scontato io non uso le armi io usi non usi l'armi guarda cosa cosa sono sono veloci l'abbiamo ancora dato inizio al duello andate già iniziato andando a poco luca ok allora aspetta no 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 non è giusto utilizzare dinosauri questi scontri in realtà è quello che non c'è un regolamento eh fi ah 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 andate l'nazio mi sto togliendo un sacco di vita no 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 ah ah e sono andando l'acqua per fortuna ci sono tutti quelli sotto sono caduto però mi sono salvato no 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 non è giusto quante sono bravi ma quante uova avevi ciò fatti bravi fatti bravi non è giusto così non è giusto non è giusto sono andati tutti luca sono andati tutti sono ah no non è ciò ciò ok ah basta quanti ne hai ma continua da spaurare ma non è valido è invece valido è spiegato il giudice l'ha detto il giudice l'ha detto va bene te lo concedo questa volta quindi gente questo nuovo episodio di lacrino giganti con il lacrino giganti dei dinosauri in compagnia di luca e cripto diteci con un commento secondo voi chi ha meritato la vittoria se questa vittoria di luca è stata legale più o meno usando i dinosauri ma dei brazi secondo me lo è stato va bene va bene d'accordo e noi ci diamo appuntamento al prossimo episodio ciao ciao